Farida, una donna indonesiana di 50 anni e madre di 4 figli, era scomparsa da un paio di giorni mentre si recava un mercato in un villaggio vicino. Nessuno avrebbe mai potuto immaginare il tragico epilogo, è stata ritrovata nella pancia di un pitone di 5 metri. A riferire la terribile notizia è stato Suardi Rosi, capo villaggio, nell'Indonesia centrale. Il marito di Farida, Nori, 55 anni, aveva precedentemente denunciato la scomparsa giovedì 8 giugno, facendo scattare le ricerche nei dintorni e nel villaggio. Il giorno successivo alcuni volontari hanno avvistato un gigantesco pitone nel sottobosco con un ampio rigonfiamento nello stomaco. Temendo il peggio, il marito e diversi abitanti del villaggio hanno deciso di tagliare la pelle del serpente. Farida è stata trovata nello stomaco del rettile ancora vestita. Il suo corpo è stato poi portato via per la sepoltura nel distretto di Pituriawa. Nori, devastato e espresso il suo dolore, mi rammaricherò per sempre per aver lasciato uscire mia moglie da sola. Se fossi stato con lei quel giorno, tutto ciò non sarebbe accaduto.